ciao amici sentite questa la sedia è perfetta per dimagrire il grasso della pancia che battuta guarda che sono seria ho preparato 5 esercizi da fare con la sedia per bruciare il grasso addominale e finalmente sfoggiare la pancia piatta che tutti desideriamo se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video prima di iniziare come sempre vi ricordo di fare questi esercizi a ritmo normale senza correre l'importante è fare bene i movimenti altrimenti non si ottengono risultati e si rischia di farsi male ok esercizio 1 sedersi sul bordo della sedia con le mani dietro la nuca e i gomiti ben aperti alzare il ginocchio destro e ruotare il busto per toccarlo con il gomito sinistro tornare nella posizione iniziale ripetere con ginocchio sinistro e gomito destro fare almeno una serie da 30 secondi o 20 ripetizioni ogni giorno esercizio 2 sedersi sul margine della sedia e afferrare il bordo laterale della seduta con le mani tenere le gambe piegate e alzarle sollevando i piedi da terra e portando le ginocchia più in alto che si riesce lentamente abbassare le gambe e ripetere fare almeno una serie da 30 secondi o almeno 10 ripetizioni esercizio 3 per questo esercizio bisogna appoggiare la sedia al muro in modo che non scivoli facciamo un plank con la sedia ma il plank non si fa a terra e questo è creativo guardando la sedia con le braccia stese appoggiare le mani sul bordo della seduta portare i piedi indietro finché il corpo non è ben steso in diagonale a questo punto piegare le braccia appoggiandole sulla seduta e portarsi nella posizione plank mantenere per almeno una serie da 30 secondi mi raccomando respirate sempre durante gli esercizi esercizio 4 sedersi sul bordo della sedia con le mani dietro la nuca e gomiti ben aperti tenendo la schiena dritta ruotare il busto verso destra contare fino a 1 poi sforzarsi di ruotarlo ancora di più e contare fino a 1 lentamente tornare alla posizione di partenza ripetere l'esercizio ruotando verso sinistra alternare i due lati per almeno 20 volte esercizio 5 da seduti sul bordo afferrare i bordi laterali della seduta con le mani portare il bacino in avanti finché i glutei non poggiano più sulla sedia adesso stendere le gambe alternando destra e sinistra fare almeno una serie da 30 secondi belli ma come faccio a farli tutti muoio infatti non devi il trucco è fare un esercizio al giorno come routine poi se un giorno siete particolarmente in forma potete farne anche due o tre quello che funziona di più è la costanza mentre un allenamento eccessivo causa affaticamento stress dolori stanchezza muscolare tutte cose che ci portano a mangiare di più o interrompere gli esercizi ognuno deve esercitarsi nel rispetto delle proprie forze e condizioni fisiche per dimagrire i fianchi e le maniglie dell'amore ho scritto un ebook con tanti consigli pratici trovate il link in descrizione con la playlist dei video con gli allenamenti per dimagrire provate questi esercizi e fatemi sapere com'è andata nei commenti per vedere gli altri video training iscrivetevi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto muoviti consapevole e dimagrisci vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona partecipa agli eventi vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta italia prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri e the book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao